È passato un anno dall'insediamento dell'amministrazione comunale di Vigarano Mainarda. Il sindaco Davide Bergamini, insieme agli assessori, ha tenuto una conferenza in cui ha tracciato un bilancio di questi 12 mesi. È stato per noi un anno di insediamento, quindi pochi giorni fa è un anno che siamo insediati in questo comune, dove sapevamo di trovare una situazione non semplice, ma che abbiamo subito preso in esame dai primi giorni. C'erano tante criticità che però abbiamo da subito, ogni assessore con le proprie competenze e le proprie deleghe, ha iniziato ad esaminare quelle che tutti a Vigarano conoscevano, a partire dalla scuola, all'ex orbit, la problematica di via Frattina. Sono problemi che ancora non sono stati risolti completamente, ma dove abbiamo avviato un percorso, finalmente dopo tanti anni, un percorso che non era mai stato iniziato prima, che ci permetterà nei prossimi tempi di iniziare a risolvere queste criticità che da troppo tempo offrigono Vigarano. Un problema importantissimo era quello del bilancio, dove poi con l'assessore al bilancio è stato fatto un esame fin da subito. Era una delle criticità maggiori perché sapevamo che questo comune aveva delle difficoltà economiche importanti. Ci siamo ritrovati come prima amministrazione, primo insediamento, ad avere 119 mutui da sostenere in questa legislatura, dove sono ripartite tutte le rate del dopo terremoto e questa amministrazione quest'anno pagherà 880 mila euro confrontati ai 250 mila delle precedenti amministrazioni. Quindi un impegno sicuramente gravoso, che non ci permette di avere risorse e di distribuire sul territorio come vorremmo da subito, ma anche qui, grazie alla competenza anche dell'assessore al bilancio, che voglio ringraziare anche pubblicamente, abbiamo iniziato un percorso per riuscire a trovare una soluzione che ci permetta nei prossimi anni, quindi nei prossimi bilanci, di poter avere un po' più di risorse ad essere sul territorio. Bergamini è intervenuto anche in merito alla sua nuova elezione alla Camera dei Deputati. Il doppio impegno sarà un impegno che io manterrò, voglio rassicurare a tutti i cittadini che rimarrò a fare il sindaco perché magari c'è qualche voce in giro che mi vede già distaccato dal comune, ma assolutamente no. Quindi i giorni che non sarò a Roma sarò sempre presente in municipio, come ho fatto da un anno a questa parte. Ci sono il vice sindaco e un assessore che si è già messo a tempo pieno, anche il vice sindaco sta valutando di mettersi a tempo pieno, ma non è un problema perché comunque la giunta è presente tutti i giorni, almeno mezza giornata, in municipio. C'è un lavoro di squadra anche con i consigli di maggioranza che mi permetterà sicuramente di stare a Roma con la massima tranquillità. Oggi con gli strumenti informatici che abbiamo possiamo tranquillamente lavorare a distanza come essere in presenza fisica. Quindi non lo vedo un problema, ma anzi lo trovo un grande valore aggiunto per Vigarano che avrà la possibilità di essere protagonista anche sui tavoli di Roma e di poter intercettare eventualmente opportunità per il nostro comune. Grazie.